Gentili telespettatori, buona giornata. Primo exit poll Rai sulle elezioni a Roma. Appena poco dopo la chiusura dei seggi vediamo che il candidato del centro-sinistra, Roberto Gualtieri, è in testa in maniera assolutamente consistente con oltre 20 punti percentuali di vantaggio. La sua forbice è tra il 59% e il 63%, mentre il candidato di centro-destra Enrico Michetti avrebbe una forbice tra il 37% e il 41%, quindi c'è una distanza in questo primo exit poll di 32% di distanza. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata.